Un intero territorio virale sui social e sotto i riflettori dei media nazionali. La pandemia non ha fermato il Natale che non ti aspetti, che si è concluso con un nuovo straordinario successo, confermandosi come uno dei più grandi eventi del Natale del centro Italia. E i numeri parlano chiaro, grazie a 25 proloco della provincia di Pesero Rubino con 2000 volontari. Dal 27 novembre al 6 gennaio 25 borghi sono stati al centro dell'attenzione. 100 uscite sulla stampa periodica, tv, radio e web. 10.000 like in un mese sulla pagina Facebook, 20.000 visite nel sito, di cui 6.000 in una settimana e 22.000 interazioni al post del testimonial d'eccezione Gianmarco Tamberi. Grande soddisfazione stata espressa dal presidente provinciale del proloco, Damiano Bartocetti. Siamo soddisfatti, prima di tutto mi sento di ringraziare tutte le proloco della provincia di Pesero Rubino, tutti i presidenti, le loro famiglie, i consigli direttivi e tutti i volontari, perché grande è stato l'impegno. E se oggi possiamo parlare di un Natale vivace, di un Natale che porta un'economia con migliaia di euro sul nostro territorio, è grazie all'impegno dei tanti volontari. Da oggi ci auguriamo di poter fare ancora di più, abbiamo in mente di collegare tutte le varie località della nostra provincia con dei mezzi, ci stiamo lavorando assieme alla regione, ma siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, perché siamo riusciti a destagionalizzare un periodo che era un periodo spento, e quindi con un grande successo di presenza di pubblico e di turisti da tutta Italia, ma anche dall'estero. Di fondamentale importanza, ha rimarcato Bartocetti, è stata la collaborazione della regione Marche, che sostiene e promuove il Natale che non ti aspetti. A seguire il progetto in particolare è stato l'assessore Francesco Baldelli, che questa mattina ha sottolineato il successo registrato anche in un anno difficile come quello appena trascorso, il quale indica che le Marche sono sulla giusta direzione, ha dichiarato Baldelli, per intercettare non solo il turismo estivo, ma anche quello invernale, che consente di apprezzare a 360 gradi le bellezze della nostra regione. Dobbiamo ricordare che in soli 40 km di ampiezza la nostra regione, la nostra provincia, ha delle bellissime montagne che degradano verso il mare dolcemente con le proprie colline, dove sorgono anche alcuni dei borghi più belli d'Italia. E allora due sono gli elementi per creare un'industria del turismo in grado di poter competere con le regioni che si stanno specializzando per attrarre visitatori dal resto d'Italia e dall'Europa. La qualità e la capacità di aggregazione. Questo le proloco lo hanno saputo fare. E anche in questa direzione sta andando l'iniziativa dell'assessorato alle infrastrutture, che insieme a Fondazione FS, Trenitalia, le proloco delle Marche, sta realizzando un progetto, quello del Christmas Rail, che nei prossimi anni porterà Babbo Natale a visitare sostanzialmente, quindi la magia del Natale, l'atmosfera del Natale, a visitare i nostri borghi dal sud delle Marche, da Ascoli Piceno, fino alla provincia di Pesaro, Orbino. Su questo treno dedicato tutto al Natale e a quello che in questa provincia viene definito come il Natale che non ti aspetti grazie all'iniziativa delle proloco.